autogrill voglio comprare tutto mi piace questo tantissimo perché è bello grosso piace anche questo qua guardate come grosso costa 5 euro vorrei comprare ma non compro perché non mangio ma vorrei comprare qualcosa non lo so salato cioccolato no sto cercando attentamente che cosa posso comprare perché mi piace proprio tutto tutto bottiglia di vino 30 per cento di sconto ci sono tanti vini tutto sconto 50 per cento come loro furbi acqua abbiamo vediamo qua che c'è di tutti i giocattoli tutti i capelli iscriveteci al mio canale miei video escono tutti i giorni sono ucraina da toscana e così mare vicino estate grazie di novi iscriviti al mio canale